Silvana Comaroli, a sostegno dei comuni, la Lega Nord che cosa ha ottenuto in commissione e bilancio per quanto riguarda la legge di stabilità? Allora, una promessa da parte dei relatori che presenteranno un emendamento proprio per affrontare questo tema, perché noi abbiamo difeso strenuamente, oserei dire, il fatto che il fondo di solidarietà che è stato pagato quasi interamente dai comuni del Nord, i soldi che ci sono a disposizione in questo fondo siano ridistribuiti ai comuni del Nord e non ovviamente invece a tutti i comuni, perché a me e penso che anche a molti dei telespettatori che hanno contribuito a impinguare questo fondo, vengano distribuiti anche al comune di Crotone dove la maggior parte, l'80% degli immobili non sono accatastati e non ci pagano l'IMA, a me dà veramente fastidio. Brutte notizie per quanto riguarda le pensioni? Sì, purtroppo sì, perché anche qua è un tema che noi avevamo sottoposto, i relatori accogliendo le nostre osservazioni avevano presentato un emendamento di rivalutazione fino a quattro volte la pensione minima, che era un limite accettabile, all'ultimo momento l'hanno ritirato. Una cosa vergognosa, che noi non capiamo come mai questo governo, che si riempie molte volte la bocca di belle parole, poi nei fatti fa sempre marcia indietro. E purtroppo continuano le marchette? Sì, fa proprio marcia indietro, proprio a favore di queste marchette, perché che venga dato un milione di euro all'Università degli Estracomunitari di Palermo, che vengano dati 500.000 al Museo della Storia per gli italiani all'estero di 500.000, che vengano salvaguardati gli ulivi della Puglia dimenticandosi invece delle viti che ci sono al nord. E tutta una serie di altre piccole cose, effettivamente piccole ma che danno fastidio, perché se noi le sommiamo tutti assieme questi soldi, potevano essere utilizzati effettivamente per abbassare le tasse, perché la somma di tutti fa una cifra notevole, potevano essere utilizzati per abbassare le tasse alle imprese, aumentare il cuneo fiscale di tutti i lavoratori e magari anche qualcosa alle pensioni e agli esodati. E invece il governo cosa fa? Nulla, nulla, nulla. Grazie.